Esordi amaro per l'Amen Scuola Basket, sconfitta nella prima giornata del campionato di Serie D regionale dall'Utensileria Online Sansepolcro in trasferta per 67 a 55. Inizio in salita per i colori amaranto che subiscono la determinata partenza avversaria in uno scatenato zanchi. Minuto dopo minuto i ragazzi di coach Pasquinuzzi si sbloccano e riescono a ricucire lo strappo. All'intervallo lungo la partita torna sui piani dell'equilibrio grazie ad una maggiore intensità messa in campo dal quintetto SBA. Nella ripresa i padroni di casa hanno il merito di tenere sempre la testa avanti non permettendo mai il sorpasso all'Amen. Nel finale punto a punto Sansepolcro sfrutta l'esperienza dei propri giocatori e porta a casa il successo con 12 punti di scarto, 67 a 55. Peccato per le palle perse negli ultimi due minuti che non hanno permesso alla SBA di lottare sino all'ultimo secondo una gara comunque equilibrata dove il meno 12 finale penalizza oltremisura gli amaranto che dovranno fare rapidamente tesoro degli errori commessi. Nel prossimo turno in programma giovedì 1 aprile al Palace Portestra arriverà il Colle Basket di coach Franceschini, altra formazione di alta qualità per un campionato che data la sua brevità non ammette distrazioni. Grazie a tutti.